I guantoni di Pisseri I guantoni di Pisseri Nelle partite che contano c'è sempre stato, da Andrea a Matera passando per Melfi ed infine per Lecce, tutte parate di Pisseri che hanno portato al Catania punti pesanti in questo inizio stagionale tribolato anche da qualche acciacco muscolare che però non l'ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco. Un numero 12 che salta e vola sui pali, davvero numero 1 della categoria, da silenzioso attore sta scalando giornata per giornata verso il podio dei protagonisti di un Catania con la consapevolezza di poter avere cieca fiducia nei suoi gantoni carichi di sogni, parate e punti pesanti.